Ciao e benvenuti su MyFootballJersey, io sono Stefano e oggi vi presento la terza maglia del Manchester City per la stagione 21 e 22, nella versione fan o stadium. La terza maglia della stagione 2021-22 segue il template usato da Puma per tutti i suoi third kit dei top club. Dando un tocco di moderno alla storia del club, il terzo kit Manchester City 2021-22 cambia il tradizionale look della maglia da calcio con una grafica ripetuta del famoso stemma. Realizzata in fibre riciclate è elegante, sofisticata e anche sostenibile. dotata di maniche in reglen per la massima libertà di movimento. Realizzata con l'innovativa tecnologia Dry Cell, questa maglia di Puma ha sicura proprietà antisudore che ti aiutano a mantenere una sensazione di asciutto e di comfort durante la partita. veramente niente male. Nella mia classifica questa maglia prende tre stelle. Non è una brutta maglia, però Puma poteva essere un po' più fantasiosa sulla terza divisa, perché tutte quelle dei suoi main club hanno lo stesso motivo, quindi dopo un po' uno si può anche stancare. Comunque la maglia è fatta veramente molto bene, con tutte le rifiniture giuste, al posto giusto, le cuciture e vi ricordo che in descrizione trovate i riferimenti per poterla acquistare. Ora, se la maglia vi è piaciuta, fatemelo sapere lasciando un like, mettete anche qualche commento su possibili prossime recensioni e iscrivetevi al canale per farlo crescere. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan o Stadium, quella un pochino più confortevole. Grazie a tutti! Grazie a tutti!